Papa Francesco ha ricevuto oggi a casa Santa Marta in Vaticano Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Facebook, accompagnato dalla moglie Priscilla Chan. Il Papa e Zuckerberg, si legge in una nota del direttore della sala stampa vaticana Greg Burke, hanno parlato di come usare le tecnologie di comunicazione per alleviare la povertà, incoraggiare una cultura dell'incontro e fare arrivare un messaggio di speranza specialmente alle persone più disagiate. Grazie